Ben trovato il direttore sportivo del Pescara Luca Matteassi, io direi 70 minuti brutti, bruttissimi, ultimi venti interessanti. Sicuramente soprattutto la prima parte non l'abbiamo giocata come al solito, però insomma anche oggi abbiamo creato tante palle e golle e non le abbiamo sfruttate, il problema è quello lì. Il problema però è anche che se la Viterbese avesse fatto il secondo gol probabilmente la partita si chiudeva. Sì, se avessi fatto il secondo gol, anche noi abbiamo creato tanto, pali, non parliamo del rigore concesso che l'abbiamo rivisto adesso, però... Qual è stata la trattenuta decisiva? Ma no, ma è a contatto con Drudi, ma cose normali, lui che balli indietro, di cosa stiamo parlando, però ormai è andata, non voglio attaccarmi a queste cose, abbiamo pareggiato, siamo riusciti a rimettere in piedi questa partita alla fine, ci prendiamo questo punto. Guardiamo al grande potenziale che è il Pescara, perché noi abbiamo detto che il Pescara la partita l'ha riaddrizzata solo perché, diciamo, auteri a disposizione, giocatori in panchina che in questa categoria sarebbero titolari ovunque. Ma sì, alla fine il mister ha provato tutto per tutto, ha cambiato tanto, abbiamo giocatori importanti, ripeto, noi l'abbiamo detto dal primo giorno, non è che se uno gioca titolare è titolare, qui ci sono tutti 24 titolari, sono entrati bene, hanno avuto le occasioni, le occasioni, l'hanno sbagliate, alla fine l'ultima Ferrari è riuscita a far gol, ci prendiamo questo punto. Io ho alcune considerazioni tecniche, poi naturalmente le faremo con Gaetano Auteri, io volevo fare una considerazione sulla struttura dell'organico a Luca Matteassi, perché al di là di quelle che erano le parole di Auteri in conferenza ieri dove ha detto io mi fido di Valdifiori, mi fido di Sanogo o di Giambo che ha recuperato in panchina, però in due settimane dove ha fatto tantissimi cambi, Rizzo e Memusce che un po' erano anche in difficoltà, non ci sono alternative, probabilmente lì la squadra è corta? No, siamo in tanti, la lista di 24, il mister ha detto così perché è giusto così, la verità è questa, poi decide lui in base a quello che vede durante la settimana, siamo in 24 giocatori e lui decide chi mandare in campo. La condizione fisica è buonissima, fino alla fine abbiamo spinto tantissimo, abbiamo fatto bene, quindi fisicamente stiamo molto bene e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Massimo diceva che ha fatto la differenza alla condizione. Sì, sì, noi stiamo molto bene fisicamente e l'abbiamo dimostrato anche oggi, fino alla fine abbiamo corso più degli altri. Però i primi 20 minuti davvero brutti, brutti? Brutti brutti e magari non l'abbiamo fatto come al solito, forse abbiamo abituato tutti a fare molto bene dall'inizio, oggi non è andata così la partita, però, ripeto, l'abbiamo recuperata e questa è una cosa importante. Ferraresi dice da studio di vedere il bicchiere mezzo pieno perché fino al 95esimo la squadra ha cercato di rimettere in piedi la partita e può fare molto bene da qui fino alla fine. Può fare bene fino alla fine, l'abbiamo sempre detto, però è vero, abbiamo creato tanto anche alla fine, per come si era messa è andato anche bene il pareggio perché si era messa male la partita, però abbiamo provato come sempre fino alla fine, abbiamo avuto diverse palle e gol e non siamo riusciti a vincerla. Ormai è andata, voltiamo pagina e pensiamo al gubbio. Io faccio l'ultima domanda mia, poi magari l'ultima da studio. Non parlo a Matteassi direttore, parlo a Matteassi ex calciatore. Forse sia in grosso, ma soprattutto i Anes hanno fatto fatica a fare quello che chiede a Uteri, ovvero a salire, ad aggredire, ad andare in anticipo. I primi 20 minuti hanno sbagliato tutti, è inutile girarci intorno. Ma no, ma all'inizio, lo ripeto, non c'entra in grosso gli Anes. All'inizio non eravamo i soliti, questo è il mio punto di vista, ma non è che abbiamo fatto male, non eravamo i soliti. E poi dopo, piano piano, abbiamo fatto molto meglio. Diceva Massimo anche che ha usato poco la testa nel primo tempo, squadra lunga, ma che ha usato poco la testa. Sicuramente, lo ripeto, non l'abbiamo affrontata come l'inizio, come le ultime volte, le gare precedenti. Abbiamo preso questo gol a freddo e magari siamo andati un po' in tilt, tra virgolette. Siamo nervositi, loro perdevano tempo già da subito, non eravamo lucidi come le altre partite. Però, ripeto, l'abbiamo rimessa in piedi, dobbiamo stare tranquilli e proseguire nella nostra strada, nel nostro cammino.